Quelli San Jimmy Tutti quelli che hanno fatto Non so, delle canzoni di b***a Mandatelo qui, in radio A Leone di Lernia Dobbiamo fare l'annuncio per San Jimmy Anonimo Se voglio dovete capire che Anonimo L'anno scorso ha esordito San Jimmy e quante copie Ha venduto? 5 milioni di copie Quindi se anche tu vuoi riuscire Nella vita come cantante Come anonimo Gli diamo un link Vuoi cantare a San Jimmy? Vai su www.105.net E iscriviti Hai tempo, fino a metà febbraio Ah, San Jimmy 2008 Ciao per te, hai capito? Va bene così il messaggio? Sì Ciao A che San Gennaro San Jimmy Quello, quello Festival di San Gennaro Festival di San Gennaro